Un saluto a tutti i campanari di Youtube, oggi è venerdì 22 maggio, Santa Rita da Cascia e io mi trovo alla chiesa dell'Immacolata di Vigevano per riprendere le campane perché qua si festeggia la festa padronale di Santa Rita in accordo col parroco suonerò le 5 campane della chiesa nel modo più solenne possibile purtroppo non possiamo farle andare a concerto perché non vanno, fanno solo distese e martelli però suonerò un po' di allegrezze, distese e varie suonate possibili A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.